Famiglia Cristiana, Panorama Travel, Vera, Donna Moderna, il Gazzettino Veneto e poi Alpitour, Mediterraneo, Veratur, Bell'Italia e la Gazzetta Svizzera. Sono solo alcuni dei nomi delle testate nazionali e tour operator che dal 28 aprile al 2 maggio faranno visita a nove parchi naturali del Salento. Il sole, il mare, la natura, i profumi e mille colori dei fiori della nostra terra affascineranno sicuramente giornalisti e professionisti del turismo per poi, ritornando nella propria città, parlarne bene e promuovere il nostro territorio. A Limi, Nicciolo, Gravine di Ugento, Baia dei Turchi, La Palascia, Porto Selvaggio, Punta Pizzo e Torre Lapillo sono le meraviglie, le aree protette e valorizzate dalle ricchezze paesaggistiche, architettoniche, archeologiche e culturali che attraverso escursioni, visite guidate, percorsi nei centri storici, nelle botteghe artigiane, nelle antiche masserie, nelle piazze, negli agriturismi verranno conosciute e apprezzate. Insomma, lo slogan è venite a scoprire i colori della primavera del Salento. Assessore, la provincia mette in scena il proprio territorio? Come? Mettiamo in scena il nostro territorio, in questa volta dedicando un educational tour per far sì che i giornalisti e i tour operator che vogliono visitare il Salento scoprino un'altra parte del Salento, che è quello appunto dei parchi naturali, che è quello dei percorsi escursionistici, cioè vivere il Salento scoprendo la natura straordinaria di questo nostro territorio. I tour operatori che verranno qui da noi saranno i testimoni, saranno i garanti di un'esperienza che vivranno di persona, scoprendo, entrando in contatto con la natura, con tutte le specie animali, le specie floricole del nostro territorio, a diretto contatto con chiaramente il mare, con le dune, ma in modo particolare per scoprire appunto la vera vita quotidiana della gente che vuol vivere un turismo sostenibile. Quindi è questo il motivo di questo education. Da quali paesi provengono? Al momento sono tutti tour operator nazionali, chiaramente del nord Italia, in modo particolare del nord-est, per cui avremo praticamente la visita di tour operator del nord-est, Alpitour è uno dei tour operatori più importanti, e chiaramente con i giornalisti che scrivono su testate nazionali e internazionali, abbiamo il sole 24 ore, abbiamo chiaramente delle riviste importanti che del Salento hanno già parlato, ma che vorranno mettere in evidenza un altro aspetto importante di questo nostro territorio. Qual è quindi il messaggio che si intende far sollevare appunto con questa presenza, con queste visite? Sì, è quella di un parco da vivere tutto l'anno, nel senso che si parla sempre chiaramente di destagionalizzazione, un percorso molto difficile, però questo è proprio uno dei parchi che rende omaggio la natura proprio in questo periodo dell'anno. Ci sono le fioriture più spettacolari, appassionati orchidologi di tutto il mondo vengono a osservare le orchidee di questo parco, e la visita anche in barca, è una visita che adesso in questo periodo è sostenibile. Nel periodo di agosto e luglio diventa anche un problema di gestione quella del flusso turistico, quindi sicuramente il messaggio principale è quello di visitare il parco in questo periodo dell'anno. Commissario, quanto è importante far conoscere soprattutto l'aspetto naturalistico di questo Salento? Moltissimo, perché è un segmento di assoluto interesse, interessa particolarmente clientela del nord Europa, del nord Italia e non solo, e poi noi abbiamo una risorsa naturalistica e paesaggistica straordinaria, oltretutto abbiamo da poco sei parchi regionali più la realtà delle cesine e dell'area merida protetta, quindi otto aree che stanno lavorando proprio affinché il turismo sostenibile nei parchi possa essere un'opportunità ulteriore di crescita. Io credo che questi education sono ben due education particolarmente mirati sul naturalistico, ma insomma non solo, poi ci sono la possibilità di conoscere tutti gli altri aspetti di un territorio molto ricco e variegato, partendo infatti da due città come Otranto e Ugento che sono turisticamente molto avanzate, anche con dei centri storici di assoluto interesse. Quindi sono convinta che sono delle occasioni di conoscenza importanti e delle forme di promozione che vanno poi ad abbinarsi con altre forme di promozione che continuano evidentemente anche a funzionare, se è vero come è vero che i nostri numeri, parlo di arrivi e presenze turistiche, continuano ad essere in crescita.